Suor Nicolino, ci sei pure tu al mare. Eh sì, sono venuta a Chino, in tenuta Reban Maresca, perché dopo un anno di sacrifici con voi bambini, adesso avvicinati figliuolo, avvicinati. E allora sei stato soddisfatto di questo anno scolastico, è vero? Sì. Ma tua mamma l'ha pagata l'ultima retta? Sì, l'ha pagata? Sì, perché noi siamo delle povere suore e viviamo con voi bambini alle vostre spalle e dei vostri genitori, capito? Però sei stato allora soddisfatto? Ehi, vieni qua. Quale materia ti è piaciuta di più? Quale? Figli. A me invece piace più la tecnologia, perché a me piace bocciare, bocciare tutti i bambini. Hai capito, piccola peste? E adesso sai che ti dico? Che mi faccio un bel bagno, a meno che non ritorna quel maledetto tsunami. a meÉ a ah a a a a a a a Aaaaaaah!